Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video teaser di Five Nights at Freddy's. Io sono Marta, la guardiana slash tecnica noturna di Yurda, matutina e pomeridiana. Allora, nello scorso episodio... Eeeeee mi sono confusa! Per... Sai perché? E' quello di... Quinto libro di Five Nights at Freddy's. Deve essere una novella. Quindi deve essere... Fazbear Sprite! Eeeeee allora parliamo questa immagine. Allora, questo ragazzo che stavo fissando quel nuovo animatronico, che sembrava un mini Freddy Fazbear. Cioè, credo! Lo sa perché? Perché lui ha uno speaker! E' anche normale. Come cosa? Uuuuh, guardate! Un ben mini palco! Però... Però... Allora... C'è qualcosa anche in terra! Qualcuno ha perso una bambola? Qualcosa più creativa... Di sempre! Però non lo so! Sembra una semplice bambola! Allora... Allora... Quindi... Questo video è un po' cortino, lo so... Quindi... Mi ricordo che l'uscita dell'altra novella, che è il quinto libro, deve essere... Fast Burst Fright, che è il primo settembre del 2020! Quindi... Mi le ringraziamo! Quindi... Lasciate un bel like! Iscrivetevi al canale! Attivate la campanella dopo l'avevo scritto, per non perdere nessuna notifica! E noi ci vediamo, ragazzi e ragazze, nel prossimo teaser! Ciao!